Un saluto dal Tg della Mobilità sulla linea C della Metropolitana per i lavori di prolungamento della linea nella tratta San Giovanni-Ambradam-Colosseo. Sino a domani la sera e dopo le 21 tra San Giovanni e Malatesta ci sono i bus al posto dei treni. Dal 13 luglio al 7 dicembre la circolazione della linea C della Metropolitana terminerà in anticipo. Da Pantano l'ultima corsa metro sarà alle 20.30 e da San Giovanni alle 21.00. Poi la linea chiuderà e i treni saranno sostituiti da due linee di bus-navetta. E anche oggi attive le ZTL notturne della città tra Stevere e San Lorenzo dalle 21.30 alle 3, Testaccio, Centro, Monti dalle 23 alle 3.00. E tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.